Ci avviciniamo in maniera... siamo carichi, siamo carichi, abbiamo lavorato forte, abbiamo voglia di affermarci e soprattutto voglia di intraprendere quel processo di continuità che è un po' che cerchiamo. Partita durissima, veramente dura contro una squadra che offre un gioco molto solido, due americani altrettanto solidi, probabilmente i due americani migliori del campionato e un gruppo che in campo ha mostrato molta coesione e molta efficacia. È fondamentale che il pubblico ci dia una mano in una partita delicata e importante come questa e considerando anche le prossime partite in calendario. Il risultato dipende anche molto da voi perché ci date un'energia incredibile ogni volta che giochiamo in questo splendido palazzetto.